ciao ragazze e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a visionare oggi è il vulcan heritage monopusher black and white un nome abbastanza complicato monopusher heritage black and white black and white poi tra l'altro è semplicemente perché l'aspetto è di così bicolore no reverse spanda perché poi di questo modello qua c'è anche una versione tutta salmone è una tutta nera mi sembra se non vado errato con i sottoquadranti neri si tratta di una edizione limitata 50 esemplari al mondo quindi è un orologio anche abbastanza particolare che ho scelto perché rientra pieno nei miei gusti perché rientra pieno nei miei gusti perché lo vedete è un orologio abbastanza compatto semplice sobrio classico e poi perché vulcan è famosa per i cricket no per gli orologi svegliarino e cos'hanno gli orologi svegliarino di particolare che hanno la corona e poi hanno il pulsante per regolare lo svegliarino in alto ad ore due ecco questo qua è un cronografo ma più o meno la stessa architettura lo stesso design cioè è un cronografo monopulsante quindi l'unico pulsante che c'è a ore due e richiama un pochino lo svegliarino pur non essendo pur essendo un cronografo quindi una particolarità che mi è piaciuta e che poi come vedremo trovo anche molto utile molto più utile della classica conformazione di un cronografo l'orologio chiaramente mi è stato messo a disposizione dall'amico giacomo che è titolare della gioielleria pasquali domenici di viareggio che è titolare del marchio cioè sono concessionari del marchio chiamateli perché vi offrono un prezzo di favore no è parte l'ufficiale del canale quindi offre a un trattamento di favore a voi che state guardando qualche piccolo vantaggio ce l'avrete dai diciamo la verità poi detto questo vedremo l'orologio bene nei dettagli a breve ma ora vi faccio vedere l'orologio del giorno che ancora una volta ancora una volta è il mio longin legend diver da 39 mm ultima acquisizione in casa cecchini orologio che ho voluto con tutte le mie forze che finalmente è entrato in collezione e non credo che non uscirà però ho anche imparato a dire che queste frasi qua poi lasciano il tempo che trovano questo qua non lo venderò mai no questo qua poi si cambia si decide di prendere un altro orologio si mette in vendita uno si prende quell'altro per ora dico che sto qua rimane nella mia collezione almeno cioè voglio dire l'ho già l'avevo già il 42 vabbè ci stiamo prolungando giriamo la camera guardiamo il mono pusher di vulcane e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni personali diamo uno sguardo a ciò che ci restituisce la fredda matematica applicata all'orologeria diametro cassa 39 mm spessore 13 mm ingombro trasversale al polso 45.5 e interasse ansa da 20 mm sorpresa delle sorprese finalmente un cronografo capace di rimanere sui 13 mm di spessore laddove siamo abituati a vedere misure che di solito si muovono tra i 14 e 15 mm direi un ottimo risultato che va sicuramente a rendere felici tutti coloro che aspirano ad un cronografo che stia bene sul polso se non bastasse anche il lug to lug e di diametro sono contenuti rendendo così questo vulcane facilmente indossabile da chiunque questi non sono dati da prendere sotto gamba molto spesso ci siamo preclusi l'acquisto di un cronografo in quanto piuttosto sporgente al polso qui vi si pone rimedio non ci sono scusanti volendo spulciare ancor più nel dettaglio anche qui vale il discorso fatto sovente ossia che essendo il vetro zaffero alquanto sporgente la resa visiva laterale è ancor più sottile dei 13 mm dichiarati lo si nota osservando il profilo cassa che mostra una carrure filante è veramente ridotta in altezza così come piuttosto corte e propedeutiche al ridotto lag to lag sono le anse il tutto condito da una differente finitura superficiale che vede nella spazzolatura superiore e nella lucidatura laterale il proprio focus in linea generale ci troviamo di fronte ad un design globale classico che ricalca gli stilemi del cronografo formale con anse sinuose lunetta lucida e trasparente bombato ciò che lo differenzia dal tipico cronografo è il fatto che la pulsanteria è ridotta a due soli elementi infatti si tratta di un crono monopulsante ciò significa che la funzione start partenza dei secondi stop e reset come si vede avviene premendo l'unico pulsante in sequenza a questo punto mi domando perché tutti i cronografi non siano realizzati con questo sistema che ritengo più semplice e funzionale immaginiamo il vantaggio che si ottiene nel misurare un breve lasso di tempo senza dover spostare il dito da un pulsante all'altro chiaramente a livello visivo siamo talmente avezzi ai classici tre elementi che questa soluzione ci appare quasi incompleta ma è solamente questione di abitudine la chiave di tutto questo è il meccanismo interno si potrebbe pensare che sia l'ultimo ritrovato della tecnologia manifatturiera invece è un semplice tra virgolette sellita sv 510 a carica manuale nella sua versione monopusher sul catalogo sellita viene riportato come essere una novità ma non mi è dato sapere da quanto tempo è in commercio resta il fatto che si tratta di un ottimo calibro di fornitura che è definibile come uno dei migliori possibili se non altro grazie all'elevata diffusione e alla conseguente facilità di manutenzione non ci è però data la possibilità di vederlo in quanto il fondello è cieco con mia soddisfazione aggiungerei anche se non vi compare nulla di eclatante e nessuna decorazione a chiappa like vediamo semplicemente il basso rilievo del logo e le scritte tecnico informative tra le quali spiccano il numero progressivo della limited edition e l'impermeabilità dichiarata di 50 metri quest'ultimo un dato più che consono ad un cronografo e che permette l'utilizzo quotidiano senza troppi pensieri ma ruotiamo l'orologio e diamo lo sguardo al quadrante aspetto che rende giustizia il termine heritage utilizzato nella denominazione un insieme di elementi che delineano lo spirito retro che si è andati a cercare di riprodurre un sapore da altri tempi che prende spunto da quei cronografi nei quali le scale di misurazione si avvolgevano su se stesse andando ad affollare il quadrante qui pur mantenendo quel principio è tutto molto più pulito è presente solamente la scala pulsometrica su base 30 che curiosamente ma in linea con quanto detto prima si dipana quasi al centro del quadrante andando anche a sovrapporsi ai due contatori una scelta stilistica apprezzabile che richiama i tempi andati consona allo stile è anche la scelta dell'architettura b compax con due semplici contatori agli antipodi e con l'assenza della finestra data il che rende tutto più equilibrato emite alla vista un insieme di elementi che trovano il suo miglior pregio nella lavorazione a contrasto dei piccoli quadranti quella finitura a vinile che è un classico dello stile che li rende così distinguibili dal fondo nero opaco e liscio chiaramente è anche il contrasto cromatico a definire lo stile il cosiddetto reverse panda che prende forma nel momento in cui i contatori chiari appaiono su di un fondo scuro come in questo caso appunto va da sé che vi è anche una certa profondità di quadrante dovuta principalmente ai recessi venuti sia creare grazie ai contatori e ai numeri arabi a corollario che appaiono in rilievo e alquanto lucidi spiccano per leggibilità per pregio della finitura e per la scelta del color sabbia il minus se vogliamo è che non si tratta di materiale luminescente questo quadrante è inerte non ha visibilità in assenza di luce per il resto riesco ad apprezzare quegli ulteriori tocchi vintage presenti quali il rio a chemin de ferre così chiamato perché ricorda un binario ferroviario oppure il vetro zaffero che con la sua distorsione periferica riesce a far vivere i dettagli del quadrante stesso e l'affascinante sagoma foglia delle sfere con finitura metallica ed annesso scintillio quest'ultimo dettaglio pur di pregio inficia leggermente la leggibilità generale come si vede quadranti numeri e sub diaz sono perfettamente distinguibili lo sono un po meno le sfere che in determinate situazioni tendono a mimetizzarsi col fondo basterà ruotare leggermente il polso per farle comparire diciamo leggibilità bene ma non benissimo in ultima analisi rimane il cinturino in pelle che è di buona fattura e soprattutto sottile e comodo stilisticamente parlando avrei preferito il classico cinturino con le due impunture alleanze in vero stile vintage ma devo dire che se si predilige l'eleganza questo è forse più adatto da segnalare poi la presenza delle spring bars a sgancio rapido una funzione aggiuntiva sempre ben accetta che ci eviterà di graffiare le anse possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali finalmente un cronografo che riesce ad essere sottile sottile perlomeno inteso come cronografo relativo al fatto che è un cronografo che come sappiamo i calibri cronografici tendenzialmente sono più spessi di quelli solo tempo no a parità di modello dire di orologio sono più spessi questo qua 13 mm sono veramente pochi diciamo la verità siamo abituati a 14 e 15 quando ne troviamo uno da 13 ecco fatto che siamo tutti contenti possiamo saluti è adatto a tutti punti positivi quali sono è l'elevata qualità delle finiture la compattezza l'aspetto classico è un orologio che indubbiamente piace perlomeno io ritengo che possa piacere a tutti proprio veramente l'archetipo del cronografo classico quasi heritage come lo dice anche il nome punti deboli quali sono un paio di punti deboli ci sono l'abbiamo visto la leggibilità è così così non per non per il quadrante in generale che si legge bene ma per quelle due sfere metalliche che in certe condizioni magari scompaiono è capita anche con altri orologi basta un pochino inclinare il polso così plaf spuntano fuori le lancette e ora si legge quindi è un piccolo scotto da pagare al classicismo della finitura metallica lucida delle lancette a foglia poi che tanto ci ricorda gli orologi retro altro punto debole che però io sinceramente non lo considero punto debole ma siccome molti di voi lo considerano lo dico è la luminescenza che non c'è è assente perché ci si aspetterebbe che da quei numeri arabi così belli in rilievo no colorati color sabbia 11 ecco lì è super luminova old radium quello vecchio stile no tac a buio boom spara no non spara è inerte non esiste non si vede un cronografo classico potrebbe anche non aver bisogno di luminescenza mettiamola così poi detto questo a chi è dato questo questo cronografo a chi è dato a tutti quelli che vogliono cronografo fatto bene compatto sottile come ce ne sono pochi con un nome classico dell'orogeria vulcain che non sto nemmeno a dire con un nome differente dal solito perché non è differente dal solito vulcain è proprio uno di quei brand storici che si inserisce di diritto nella storia dell'orogeria svizzera e anche mondiale no vulcain gli orologi dei presidenti americani il cricket e vulcain però volendo volendo andare però a sfrucugliare diciamo che è al di fuori dei soliti cronografi che tutti apprezziamo eberhard ad esempio è un orologio che un cronografo che di stile potrebbe assomigliare a vulcain ma monopulsante ragazzi non ce n'è in giro tanti ecco monopulsante non ce n'è tanti quindi chi vuole un cronografo monopulsante che poi torna bene non capisco perché non li fanno tutti così monopulsante cioè via stop reset fatto cioè si devo fare un intervallo di tempo cordo tata così ci riesco in quell'altro modo devo anche distogliere lo sguardo al quadrante per cercare pulsante e si perde dei centesimi se non decimi di secondo vabbè mi sto dilungando un po troppo forse comunque come al solito io vi ho fatto vedere l'orologio le fotografie le immagini le macro come fatto come non è fatto le caratteristiche tecniche no ho spiegato l'orologio diciamo così poi siete voi che dovete decidere sì questo qua può rientrare nei miei gusti ed è uno di quelli che metto nel carniere oppure no nella ferretra non ci sta ferretra compito di oggi cercare cosa significa ferretra perché tanto non lo sapete molti di voi non sanno lo scometto boh mi sembra di aver detto tutto dai non mi resta che ringraziarvi per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto l'orologio il video il presentatore e il contesto se così non fosse almeno l'orologio del giorno vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 Grazie a tutti.